Salve a tutti in questo video vediamo come risolvere la missione il relitto su Star Wars Outlaws Allora per prima cosa andiamo all'obiettivo Io vi consiglio di entrare qua dentro perché c'è modo di salire su passando dal lato Vi consiglio di uccidere questo mostro qui perché vi impedisce di salire col rampino oppure muovetevi e salite col rampino Comunque è proprio lì la posizione Quindi lo vado ad uccidere io Nel mio caso E una volta fatto salgo col rampino Bene quindi dobbiamo dondolarci e salire qui Secondo me questo è il modo migliore per entrare senza essere visti Saltiamo qui E infine entriamo nella base e siamo nella parte più alta quindi rampino E andiamo qui Da questa posizione comodamente si possono far fuori tutte le guardie che stanno quassù E consiglio almeno in questa parte di essere il più stealth possibili È molto difficile non farsi mai beccare io non ci sono riuscito infatti perché sono veramente tanti i soldati Soprattutto nell'area centrale della base che va attraversata bene o male Quindi cerchiamo di fare il possibile ma non importa che sia perfetto Ok anche questo è molto semplice da far fuori Attenzione solo la guardia laggiù che fa il percorso avanti e indietro Ok si è girato Quindi giù anche questo Aspettiamo che Il tizio faccia il percorso all'inverso Ormai è troppo Ecco infatti sta per tornare quindi Dobbiamo muoverci non appena torna indietro Quindi prima dobbiamo aspettare che si avvicini Ok non appena si gira partiamo Benissimo ora E facciamo fuori anche questa Ora subito senza perdere tempo andiamo anche a lui Subito Abbiamo poco tempo Eccolo qui perfetto Ora siamo più tranquilli abbiamo le mura tutte per noi Andiamo al computer E andiamo a sbloccare un po' di roba O meglio disattivare telecamere e torrette Sono tutte cose che ci potranno aiutare Quindi facciamo la violazione Qua schippo Apriamo la porta di sicurezza e disattiviamo Il resto Poi vediamo un po' Qui non c'è altro Ok quindi usiamo la scala e scendiamo da questo lato Anche qui è possibile far fuori facilmente queste due guardie Ok anche se ci becca O meglio se ci sente Ci basta fare il giro Dalla parte in cui lui va Ok Sì va di là Ok Questo è fuori E anche questo Fuori Perfetto Bene qui non c'è da fare altro Adesso andiamo a cercare La presa d'aria Eccola qui Con queste possiamo muoverci all'interno della base senza problemi Quindi andiamo avanti E qua troviamo un po' di cosette Allora bypassiamo il blocco qui Andiamo avanti E abbiamo celle a ioni Poi accediamo al computer E anche qui facciamo la violazione per disattivare la barriera energetica Ok come potete vedere le guardie sono tante Purtroppo Apriamo la porta E andiamo avanti Noi dobbiamo entrare là dentro Vedete? A sinistra Lì dove c'è quella guardia Quindi possiamo cercare di Di usare qualche sistema Ma sono veramente tanti Anche attraversare Come sto facendo ora Serve a poco Perché ci ritroviamo comunque dall'altra parte Semplicemente Quindi io qui ho ingaggiato un combattimento a fuoco Però se potete Cercate sempre lo stealth prima Intanto vi faccio vedere dove conduce Io speravo mi conducesse già all'interno Invece no E sono di nuovo fuori Semplicemente dall'altra parte Vedete? Tanto la porta è sempre lì Quindi cerchiamo di arrivarci senza combattere Altrimenti Se non ce la facciamo Ecco come in questo caso mi ha beccato questo Allora procediamo Facciamo un po' di pulizia Stiamo però attenti Perché sono veramente tanti Io ce l'ho fatta senza troppi problemi Nel caso E poi apriamo E corriamo Cerchiamo di non farli fuori tutti Perché sono troppi Bene quindi cerchiamo di disperderli Anche qua io ormai devo combattere Una volta fatto andiamo giù E disattiviamo la barriera Così Ok E in questo modo prendiamo un oggetto Non essenziale Diciamo così Però importante Qua torniamo a essere un po' stealth Ok Fuori uno due E poi tre Perfetto E anche qui possiamo prendere un po' di cose Soprattutto Vediamo un po' dove sta Dovrebbe stare qui in questa cassa Intanto mi prendo il fucile blaster Non si sa mai Apriamo il contenitore Sì eccolo qui Tesoro recuperato Ok Qui abbiamo anche dei crediti Che possiamo trasferirci Se facciamo la violazione Poi abbiamo l'altro computer di là Usiamolo per andare A disattivare tutta sta roba Quindi torrette E il resto Perfetto Adesso possiamo tornare di sotto E andiamo ad esplorare un'altra parte E qui purtroppo sono tornati altri soldati E di nuovo combattimento Cerchiamo di non farli chiamare rinforzi Che già sono tanti Ok E questa volta andiamo Qui c'è Sblocca porta di sicurezza Qui Qui dentro Ok in questo modo noi ci ritroviamo Da un'altra parte della base Ed è proprio lì Che c'è il nostro obiettivo Quindi vi consiglio comunque di seguire Il mio percorso Per arrivare all'obiettivo E prendere un bel po' di tesoretti Allora questi due stanno lì fermi Io consiglio di mandare Nix ad attaccare uno E prendere l'altro Vedete si muovono insieme Quindi ci beccherebbero Quindi io faccio così Ecco e poi vado Faccio fuori questo Mentre l'altro è impegnato con Nix E poi anche lui Perfetto Il blaster Non si sa mai Bene Andiamo avanti Qui dobbiamo andare sempre sempre dritti Perché qua c'è semplicemente Come potete vedere Una scala E ci porta laddove eravamo prima Non ci serve Quindi andiamo in fondo Ok e qui dobbiamo andare di sotto Sbloccare la scala E far fuori tutti quelli lì Possibilmente O meglio in realtà no Perché ci basta andare sopra con le scale Io ancora non lo sapevo Quindi li ho fatti fuori tutti Infatti è là sopra l'obiettivo Quindi potete saltare questa parte Ecco quello che sto per fare io Non è necessario Vi faccio vedere Comunque Allora infatti una volta liberati di tutti questi Io sono andato a esplorare qua giù Ma poi alla fine Sono salito sulla piattaforma Che mi ha riportato su E ci si arrivava dalle scale Quindi li ho fatti fuori per niente Perché poi Andiamo qui E qui troviamo l'area ingegneria Quella che ci serve Quindi sì ho fatto una cosa per niente Ed ecco qua Quindi l'obiettivo della nostra missione è qua sotto Ci basta scendere giù Kay stessa ci dice che c'è l'area ingegneria E adesso possiamo andare avanti Fino a che non troviamo ciò che cerchiamo Quindi Come potete vedere sta qua dentro Dobbiamo mandare Nix ad aprire la porta Quindi andiamo a Fargliela sbloccare Vai Nix No non l'ha fatto Ah l'ha fatto ok Prendiamo l'obiettivo E adesso dobbiamo tornare indietro Dobbiamo cercare la via più rapida Possibilmente Quindi L'obiettivo è salire essenzialmente Sul tetto Sulle parti delle mura E correre lateralmente Nel perimetro Fino a trovare Il punto migliore Per uscire Quindi vi consiglio Di ignorare i nemici qui E di correre Correre assolutamente Verso l'uscita E l'uscita è in alto Quindi Lasciamo stare questo Questo Come sto facendo Io sto perdendo tempo A meno che non siano veramente Tanti e tutti intorno Comunque cercate di salire Sulla piattaforma E andartene Andarvene il prima possibile Su Ci siamo A questo punto Giriamo intorno alle mura Fino a che non troviamo Un accesso Fuori Anche qui sto perdendo tempo In realtà non dobbiamo farlo Ok quindi giriamo intorno Qui è troppo alto Per saltare ovviamente Ma torniamo essenzialmente Dove eravamo partiti all'inizio Quindi facendo tutto il giro Ci ritroviamo di nuovo Al punto con la roccia E il rampino Poi non so se ci sono altri punti Per saltare però Questo mi sembra il migliore E anche quello meno presidiato E qua avevamo fatto pulizia In precedenza Quindi no problem Bene Andiamo Usiamo il rampino E facciamo tutto il percorso A ritroso Non appena possiamo Ecco vabbè E' uguale Anche questo va bene Se no saremo usciti da dietro Comunque L'importante è arrivare al punto In cui possiamo chiamare Il nostro speeder E da lì Ci allontaniamo Il più rapidamente possibile E adesso andiamo Alla foresta rocciosa Quindi il prossimo obiettivo Quindi Velocissimi Seminiamo L'impero Non fermiamoci E arriveremo E arriveremo A un punto In cui bisogna usare Per forza Il turbo Per andare avanti Quindi se seguiamo La traccia della missione Ci arriviamo senza problemi E qua su Dobbiamo salire Con lo speeder E poi entrare Bene Qui c'è tutto Un percorso Ora da fare E qua è tutto Molto intuibile In realtà Andiamo avanti Ok È abbastanza lungo Ci siamo Siamo quasi arrivati Procediamo Procediamo Ed eccoci qua Allora Qui dobbiamo scendere Finalmente Non mi cercano più E qua Dobbiamo usare Il nostro Nucleo Energetico In questo modo Facciamo Aprire la porta Ok Quindi andiamo Adesso a sparare A questi No Questo Ce n'è uno solo Ed ecco la nave Ora noi dobbiamo Arrampicarci Lassopra Ed entrare E c'è un po' Di lavoro Qui Infatti è una missione Abbastanza lunga Anzi parecchio lunga Quindi qua è tutto Abbastanza intuibile Saliamo prima qui Fino in cima Qua usiamo Il rampino E andiamo Fino in cima Ok Poi qui Di nuovo Rampino Saltiamo Ci arrampichiamo E poi andiamo A destra Questa parte È abbastanza Semplice Andiamo giù Rampino Passiamo Da questa parte Poi passiamo In mezzo Ed eccoci qui Allora dobbiamo fare Il salto in avanti Ovviamente Prendiamo la rincorsa Bene Procediamo Qua vediamo benissimo Dove dobbiamo saltare Ovvero qui Rincorsa Andiamo su Andiamo a destra Qua salto Rampino Che culo Ok Andiamo avanti Perfetto E qui capiamo Che è più grande Del previsto Dobbiamo andare Alla plancia Quindi scendiamo giù 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 Ok E qua cadremo Non c'è modo Di farcela Bene Prendiamo tutto E adesso Procediamo in avanti Rampino Saltiamo qui Ok Poi destra Facciamo tutto il giro E saliamo Da questa apertura Ok Adesso usiamo Una luce Allora Qua giù Troviamo Alcuni oggettini Quindi questo Il duracciaio Vi consiglio Di prendere tutto Che sono Ingredienti Utilissimi Per i potenziamenti Ok I vecchi crediti Che qua Troveremo All'interno Di questa nave Qua non dobbiamo Cadere Mi raccomando Non dobbiamo Tuffarci Ok Qui abbiamo Preso tutto Mi pare di sì Ok Andiamo su E andiamo A Sparare qui Poi saliamo qui Poi sinistra Andiamo in cima Dobbiamo sparare qui Non si apre Perché ce n'è anche un altro Io non l'avevo visto Eccolo qui E siamo in un'altra Sezione Buia Andiamo di sotto Qui abbiamo Il transparciaio Quello che è Insomma Perfetto Quello è il reattore Andrà Attivato C'è ancora Un po' di strada Da fare E vediamo Che questa è la via Per proseguire Quindi saliamo di qua Salto qui Qui Andiamo avanti Saltiamo qui Sinistra Qua andiamo di giù E adesso saltiamo Qua Oh Attenzione Perfetto Qui andiamo veloci Perché mi sa Che cadono Queste cose Quindi nel dubbio Facciamo tutto Veloce E poi qua Non so se Cadranno veramente Quelle cose Comunque facciamo veloce Per sicurezza Bene Qui siamo al sicuro Procediamo Procediamo Su Qui andiamo Di sotto Con il rampino E' tutto un fare Su e giù Qui Perfetto Allora qui Per andare avanti Bisogna attivare Tutto Bisogna accendere Il reattore Per accenderlo Dobbiamo andare Proprio là dentro Quindi andiamo avanti Prendiamo tutto Scendiamo Col rampino Altri oggetti Qua c'è un altro oggetto In fondo E poi andiamo Dall'altra parte Qua prepariamoci Per due salti A fila Ah no In realtà No Mi ero Dimenticato Ok Perfetto Quindi dobbiamo Scendere Nella parte Più bassa Del reattore Giriamo in tondo Fino a che non troviamo Un attacco Per il rampino Eccolo qui E dobbiamo attivarlo Prima in fondo Poi in cima Quindi Partiamo dal basso E attiviamolo Ora tutto quello Che si apre Ci servirà Per salire Ok Usiamo la scala E adesso Dobbiamo andare Fino alla cima Del reattore Sfruttando le aperture Come appigli Quindi giriamo Qui ci arrampichiamo Qui accediamo Al computer Ed ecco che si aprono Gli appigli C'è anche la freccia Che ci indica Da dove partire Andiamo su E andiamo veloce Perché si chiudono Vedete Ok Sopra Aspettiamo Che si apra Questo E non appena Si apre Subito andiamo Ok Ci siamo quasi Eccoci qua Quindi andiamo Ad attivare Il reattore Perfetto Adesso C'è solo una via Per andare avanti Vedete Viene spianata Anche Allora prima Saltiamo qui Poi Usiamo il rampino Per andare avanti In questo modo Ed ecco qui Aspettiamo L'elevatore Ok E adesso Possiamo andare Ad accendere Tutto l'Ambara Dan Quindi interagiamo Con il computer Con questo Ok Questo è ovviamente Facoltativo Prendiamo I vecchi crediti Mi sa che ho lasciato Ancun oggetto Qui in questa stanza Comunque fa niente Andiamo avanti Qui Rampino Ok Qui c'è un'altra stanza Procediamo di qua Ok E qua esploriamo Accedendo ai vari computer E prendendo i vari oggetti Che troviamo Il duracciaio Qua abbiamo questo Questo Qui abbiamo una cassa Ok Qui abbiamo preso tutto Possiamo tornare Nella parte Di mezzo della stanza Dove possiamo proseguire Ovvero qui Ok Adesso dobbiamo usare Quei nuclei Per salire Quindi prima Ci facciamo Scendere il turbo ascensore Ci saliamo E andiamo a colpire Di nuovo Il nucleo E colpiamo Anche gli altri Per continuare A salire Però prima Dobbiamo cambiare Turbo ascensore Questo qui Ok Spariamo Saltiamo Attenzione a questi Ok Una volta sopra Dobbiamo aspettare Che si aprano Per poi saltarci sopra Ma occhio Perché poi tendono a chiudersi Quindi occhio Non saltiamoci subito Ecco Aspettiamo Che si chiudano E poi Subito doppio salto E poi qua Bene Prendiamo tutta la roba E andiamo avanti Qui passiamo in mezzo E siamo quasi arrivati alla fine Ok Bene Questa è la stanza finale Come potete vedere Ci sono diverse Bombole Da far saltare Il che vuol dire Che c'è un combattimento Preannunciato Prendiamo intanto Un po' tutti gli oggettini Che troviamo E prendiamo nota Anche di ciò Che possiamo far saltare Perché qua Ci saranno Due soldati Abbastanza cazzuti Quindi quando siamo pronti Interagiamo Dobbiamo andare Dall'altra parte Quindi interagiamo Con l'altro computer E poi di nuovo Dobbiamo tornare All'altro Però prima Dobbiamo sconfiggere Gli assalitori Ora possiamo Usare Un sistema stelte Proviamoci Provate ad attivare I detonatori In prossimità di loro Per cercare Di danneggiarli Poi a un certo punto Però Se non ce la fate Bisognerà Ucciderli manualmente E occhio perché Ecco Lo scontro A fuoco È la cosa migliore Non andate Con il corpo a corpo Perché sono Abbastanza resistenti Come potete vedere Ok Questo è fuori C'è rimasto questo Prendiamocela con comodo Giriamo Oppure sfruttiamo L'ambiente Questo sta per tirare Anche una granata Ok Dai Così fatto Cerchiamo di non forzare Troppo la mano Ma io Girerei in tondo Per sicurezza È veramente duro Veramente duro Cioè stavo provando Con una granata Ma ho fallito miseramente Dove si è ficcato? Non lo vedo più Ah ecco È là Dai che Ci manca poco Perfetto Adesso dobbiamo Tornare ad interagire Con il computer E ci sarà Un filmato Dobbiamo quindi Prepararci a scappare Ma sarà semplice Perché più o meno Sarà andare sempre dritti Quindi interagiamo E facciamo partire Il filmato Quindi per fuggire Basta saltare Qui Andiamo fino in fondo Qui cadremo Ok Andiamo avanti Qui spariamo A metà Andiamo avanti Quindi di qua Poi qui E ci sarà Un filmato Alla fine Del filmato Dovremo andare dritti Con lo speeder Fino ad uscire Semplicissimo Non ci si sbaglia Basta andare tutto in fondo Turbo Fino a che Non usciamo Dalle grotte Ok ci siamo Quasi Vediamo la luce Eccola qua Quindi una volta fuori Possiamo aprire La mappa E usare Il viaggio rapido Per andare All'obiettivo finale Dove ci sarà Il filmato E alla fine del filmato Avremo completato La missione Spero di essere stato utile Ci vediamo Al prossimo video Al prossimo video